Ah, mi stava cadendo il telefono. Dopo lunghe, 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 lunghe fasi preparatorie, stiamo effettivamente per andare verso un parrucchiere che si chiama A.Sisterhand, dove spero mi sistemi i capelli in vista di domani. Hai qualcosa da aggiungere? Ho delle informazioni di scorse. Ok. Non abbiamo neanche una buccetta. Oh, cibo. Che inedita sensazione. Mamma mia, stavo morendo di fame. Con chi andiamo a lavorare, Ali? Con chi andremo a lavorare oggi, Fred? Oh, dove andremo? Da chi andremo? Andiamo dagli heartbreaks. Heartbreaks che io personalmente ho un po' in antipatia. Ma ti piace. Perché hanno detto che gli dà fastidio essere paragonati agli Smiths. Allora, eh? Va bene, andiamo dagli. Cioè, se qualcuno ti paragoni agli Smiths, tu ti facci i gomiti, stai zitto, tu ti seppellisci fin qua perché non sarai mai neanche un pollice di moz. Che cosa? È un po' magro, Rango. Cioè, a me piacciono più Chubby, se non se l'ha capito. Non se l'ha notato. Ce ne sono più da amare. Appunto. Tutti pronti per le Olimpiadi, dai! Dispiamolo la città, rifacciamolo da capo! È giallo? Non c'è la griglia, ma è giallo, scusa. No, è sempre un video. Vabbè, ciao a... Ciao a torniamo per piacere. Sì, ok, faccio la foto, ciao!